Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. La legge sulle unioni civili sancisce di fatto un'equiparazione al matrimonio e alla famiglia e le differenze sono solo dei piccoli espedienti nominalisti o degli artifici giuridici facilmente aggirabili in attesa del colpo finale, compresa anche la pratica dell'utero in affitto che sfrutta il corpo femminile profittando di condizioni di povertà. Sono le parole del presidente della CEI, il cardinal Angelo Bagnasco in occasione dell'Assemblea Generale dei Vescovi e proprio nella giornata mondiale contro l'omofobia. Anche secondo lei questa legge sancisce di fatto un'equiparazione al matrimonio e alla famiglia? Sicuramente sì, però appunto si è preso troppo tempo su queste unioni rispetto a tanti problemi che ha l'Italia e sarebbero molto più importanti da vedere. Per esempio il lavoro, per esempio l'immigrazione, per esempio le pensioni, per esempio i contratti, sono tante le cose a cui pensare rispetto alle unioni civili che poi per il resto sappiamo tutti benissimo che esistono già solo che non sono state mai legalizzate. Sì, come mai? Io non ho problematiche di questo genere, quindi per me è indifferente sia quella tradizionale che quella nonna. Io non la ritengo giusta questa legge, semplicemente perché penso che il matrimonio sia un'istituzione che ha delle caratteristiche che non sono equiparabili a quelle delle unioni civili. Cosa ne pensa invece di quanto detto sull'utero in affitto? Lei è favorevole o contrario a questo tipo di soluzione per coloro che non possono avere figli? Io sono contraria, contraria perché penso che vada ad incidere negativamente su quella che può essere e poi la stabilità, l'equilibrio mentale di un bambino. È vero che comunque i tempi cambiano, quindi non siamo più nel passato in cui la società era diversa. Però io ritengo che l'equilibrio del bambino vada salvaguardato innanzitutto. Il lavoro che manca, la povertà, le dipendenze come quelle legate al gioco d'azzardo sono i problemi del paese rispetto ai quali la gente vuole vedere il Parlamento impegnato senza distrazioni di energie e di tempo perché questi sono i problemi veri del paese, cioè del popolo. Sono altre dichiarazioni di Bagnasco. Secondo lei il Parlamento ha speso troppe energie per questa legge sulle unioni civili? Sì, specialmente perché ci sono cose molto ma molto più importanti di queste. Tipo, non so, le problematiche del lavoro, su quello che stiamo vivendo oggi come oggi. Ci sono molti, molti problemi. Quindi questo è importante, anche questo, però sono molto più importanti altre cose. Assolutamente sì, perché come dice Bagnasco probabilmente il prossimo passo sarà l'utero in affitto e le priorità in Italia oggi sono davvero tutte altre.